Il viaggio è stato un viaggio credo molto importante per la città di Napoli, in particolare perché ha consentito di raccogliere consensi unanimi su questa iniziativa che si terrà a ottobre a Napoli, questo forum dei sindaci delle città del Mediterraneo, ho avuto incontri con sindaci palestinesi, israeliani e giordani, c'è un impegno molto forte in particolare del Presidente Abu Mazen su questo punto per coinvolgere l'intero anche mondo arabo, siamo in contatto anche col Sindaco di Istanbul che ha un ruolo fondamentale e sta andando tutto al di là di ogni previsione e sarà un evento storico per la nostra città, il Presidente Abu Mazen ha coinvolto anche il Papa, a seguito di una serie di incontri anche avuti lì abbiamo appreso con un particolare motivo di gioia che l'8 giugno ci sarà questo incontro in Vaticano tra Perez, Abu Mazen e il Papa, io sono stato anche particolarmente fiero da Napoletano che è l'unico rappresentante del mondo occidentale presente tra le autorità e tra i rappresentanti diciamo istituzionali e politici durante la messa del Papa e appunto era il Sindaco di Napoli, questo è segno del riconoscimento istituzionale e forte che viene dato alla nostra città come ruolo che può svolgere una diplomazia dal basso nel Mar Mediterraneo. Poi ha avuto una serie di incontri molto importanti in Giordania, in Israele, anche incontri franchi sul piano dialettico con la comunità ebraica che dopo un confronto serrato si è convenuto su tanti punti e quindi anche degli elementi di distanza si sono ridotti, siamo tutti consapevoli del fatto che si debba lavorare per due stati autonomi e indipendenti Israele e Palestina, tutti hanno convenuto sul fatto che la novità politica messa in campo è questa iniziativa dei sindaci che può dare una spinta ai governi per cercare di arrivare al punto in cui altri non ci sono ancora riusciti. Quindi questo è un viaggio diciamo alla fine il bilancio è estremamente positivo, io lunedì, tra lunedì e martedì pubblicherò sul mio profilo Facebook pure il diario del viaggio perché abbiamo avuto momenti anche molto toccanti sul piano personale perché sono stato sia a Gaza che a Sderò che sono le due città Palestina e Israele in cui si vive nell'incubo di missili o di bombardamenti aerei dove il 75% dei bambini soffrono di malattie psicologiche dove si hanno 15 secondi di tempo per mettersi a riparo quando c'è un conflitto, insomma siamo in una zona particolarmente delicata del nostro mar Mediterraneo. Ho percepito una gran voglia di pace, una gran voglia di mettere in campo azioni nuove e credo che sia un grande riconoscimento per la nostra città e un motivo di grande orgoglio di essere in qualche modo della partita. Sicuramente ci saranno i sindaci che hanno già confermato molti la loro presenza, lavoreremo nelle prossime ore, sicuramente ha già dato la conferma il presidente Abu Mazen, siamo in attesa di avere la conferma del presidente Perez che probabilmente non sarà più capo di Stato ma io ho visitato il centro Perez per la pace, ho incontrato il direttore, il suo braccio destro, sono rimasti entusiasti dell'invito, loro ci saranno come centro Perez, ci auguriamo e ci sia anche il presidente Perez al quale l'Università di Napoli Federico II conferirà una laurea honoris causa, quindi insomma Napoli diventa crocevia di pace, ma non solo di pace perché il tema che è stato affrontato è quello dei diritti umani, dello sviluppo del Mediterraneo in modo anche diverso rispetto al passato, il ruolo delle città, insomma credo che va in linea anche con la centralità del Mediterraneo nelle politiche dell'Unione Europea nella presidenza di semestre italiano dal 1 luglio e mi auguro con le linee guida politiche del nuovo Parlamento europeo che si è adesso insediato.